L'inchiesta della Guardia di Finanza, disposta dai giudici del Tribunale di Cagliari a carico del Presidente della Regione Cristian Solinas, con il conseguente sequestro di beni immobili e documenti, si materializza in un momento particolarmente delicato per l'esponente politico, a due giorni dalla riunione del Consiglio Nazionale, convocato per domani ad Oristano per stabilire con quale cordata politica il partito deciderà di schierarsi oppure scegliere la strada di correre da solo e presentarsi agli elettori in maniera autonoma. Le vicende per le quali Presidente della Regione chiamato in ballo sono in via prevalente di natura personale, con procedure che erano già state avviate e che, come detto, si materializzano in questa delicata fase della politica regionale. È certo che Solinas proseguirà il suo impegno alla guida del partito sardo che, come si è detto, è chiamato ad effettuare una delicata scelta di campo. Storicamente la vita di questo raggruppamento politico è stata vissuta con ardore, segnata da contrapposizioni interne, da scissioni, abbandoni e ritorni, con la rilevanza storica degli anni venti ai periodi di Emilio Lusso e Camillo Bellieni, gli anni ottanta con Mario Melis quando il partito aveva superato il 13% dei voti e conquistò 12 seggi in Consiglio regionale. Sul fronte elettorale da sottolineare l'intesa intervenuta tra Renato Soru e Italia Viva di Matteo Renzi a seguito di un documento di intenti che l'ex governatore ha sottoscritto con la coordinatrice regionale del movimento renziano Claudia Medda. Il partito di Renzi, molto prudentemente, eviterebbe di presentare una propria lista inserendo propri candidati in quelle di Soru e tra questi non si esclude anche il nome di Anita Pilia, attuale assessore regionale all'industria, che dopo aver lasciato Sardegna 2020 è approdata alla Corte di Renzi. È stata inoltre ufficializzata la lista dei riformatori Benedetta Doristano dal sindaco Massimiliano Sanna, presenti all'incontro con i colleghi di Zediani Claudio Pinna e di Santa Giusta Andrea Casu. A presentare la lista è stato il coordinatore provinciale già sindaco di Marrubio Andrea Santuccio, che ha inteso precisare come la lista sia composta da amministratori comunali di provata esperienza sul campo. La compongono Sergio Locci, consigliere comunale di Uristano, Annalisa Mele, consigliere regionale uscente e sindaco di Bonarca, due sindaci di Ghilarza, Stefano Liccheri e Sedilo Salvatore Pessi, il consigliere comunale di Suni, Beatrice Mura, esponente sindacale nel settore della sanità ed infine l'ex sindaco di Uras, Anna Maria Dore. Durante un servizio di vigilanza tutela della fauna etica e della legalità della pesca, nella località Maimoni, la pattuglia della stazione forestale di Uristano ha avvistato all'interno dell'area marina protetta per l'isola del Sinis, isola di mal di ventre, un gommone che si spostava tra la zona B, riserva generale, e la zona C, riserva parziale. A bordo dell'imbarcazione c'erano due persone, una delle quali era intenta a tuffarsi e riemergere con continuità. Monitorando da terra i loro vari spostamenti, gli agenti hanno intercettato i due uomini in una zona di approdo. Dai controlli eseguiti è risultato che trasportavano circa 6 kg di pescatto, di cui la maggior parte spigole, e che svolgevano l'attività di pesca abusivamente, in quanto pescatori non professionali e non autorizzati sono stati deferiti all'autorità giudiziaria competente. La pattuglia forestale ha inoltre sequestrato le attrezzature da pesca e il pescato, che su autorizzazione del pubblico ministero è stato devoluto alla mensa della carità delle figlie di San Giuseppe. Il sindaco d'Oristano Massimiliano San si scaglia contro il pieno di dimensionamento scolastico. Durante l'audizione che si è svolta presso la Commissione Cultura e Pubblica Istruzione del Consiglio regionale, ha ribadito le ragioni dell'opposizione del Comune alla delibera della Giunta, che ha disposto alla soppressione di due delle quattro autonomie scolastiche comunali. Sono state ribadite le argomentazioni già manifestate negli scorsi mesi dalla conferenza dei sindaci della provincia, che aveva espresso un parere negativo alle linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per il 2024-2025, giudicate come un atto normativo che impoverisce la scuola pubblica. Il sindaco Sanna ha chiesto il mantenimento delle istituzioni scolastiche cittadine, evidenziando come la delibera che stabilisce l'accorpamento delle autonomie, portando da 4 a 2 il numero delle dirigenze scolastiche, non rispetti i criteri numerici riferiti alla popolazione scolastica, stabiliti dalle stesse linee guida. In caso di mancata rimodulazione del piano è stato ipotizzato un ricorso al TAR. Nella borgata marina di Torregrande furti e danneggiamenti sono una costante, con fatti ed episodi che impensieriscono i residenti e gli operatori che nei mesi invernali chiudono le attività con le strutture che diventano facile preda di vandali e balordi. Ad una condizione di pericolosità sociale si è ora aggiunta quella dei lavori in corso sul lungomare e la strada principale che la costeggia e anche in questo caso sono in molti ad osservare che l'intervento andava effettuato per lotti e questo per evitare i disagi che si stanno capitalizzando. Sugli interventi di riordino dei tratti prospicenti la spiaggia e il litorale appare evidente la necessità di intervenire con una accurata pianificazione che consenta di ottenere il miglior risultato evitando forzature che determinino l'alterazione del già fragile equilibrio esistente tra il patrimonio di alberature presenti, l'assetto della strada principale e le implicazioni di quanti hanno costruito case residente sul fronte spiaggia e al ridosso degli alberi. Il Museo archeologico Antiquario Arborense di Oristano è entrato a far parte del sistema museale regionale. Ha dunque ottenuto un importante riconoscimento per la qualità dell'offerta culturale e per il ruolo fondamentale che svolge in campo scientifico e nella valorizzazione turistica della città di Oristano, premessa fondamentale per far parte del circuito nazionale che permette di beneficiare del sostegno statale. Il procedimento di riconoscimento prevedeva la verifica del rispetto di standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni degli istituti e dei luoghi della cultura definiti a livello nazionale e internazionale. L'inserimento nel sistema museale regionale, oltre a dare maggiore visibilità al museo nel territorio regionale, permetterà l'accesso a iniziative finanziarie, formative e culturali previste a livello ministeriale. Il Comune di Marrubio informa che il turno di giovedì 18 gennaio dell'ambulatorio Ascot di Marrubio è posticipato a venerdì 19 gennaio. Sarà aperto dalle 9 alle 14. Da oggi è in pubblicazione il nuovo manifesto della Sartiglia. Fino a metà febbraio sarà l'immagine ufficiale della Sartiglia 2024 e rappresenterà la giostra in tutta l'isola e anche fuori dai confini sardi. Scelto dalla Fondazione Oristano per rappresentare l'edizione 2024 della giostra equestre, il manifesto raffigura su compoidori a cavallo con su stoccu, mentre si appresta a correre per centrare la stella. L'immagine promuoverà sul web, su social network, nelle vie e nelle piazze, sulla stampa e sulle emittenti televisive, la tradizionale giostra equestre oristanese. Venerdì 19 gennaio alle ore 17.45 nella Biblioteca Comunale di Mogoro verrà presentato il libro di Antonio Pinna, Francesco Salis, un maestro per la comunità Premio UNESCO 1967. Coordina la bibliotecaria Alice Pia, l'introduzione di Antonio Garao, giornalista esperto di lingua e cultura sarda. La rassegna e venerdì al museo ideata dalla Fondazione Monte Prama prosegue con un nuovo incontro. Sarà un tema scientifico stavolta a catturare l'attenzione dei partecipanti. In collaborazione col CNR di Torregrani andremo alla scoperta delle tartarughe marine. L'appuntamento è per domani, venerdì 19 gennaio alle ore 18 nella sala del paesaggio del Museo Civico Giovanni Marongiu.